Eh, sei arrivato? Silvestro? Eh, sei arrivato finalmente da lavorare? Sì, sono io, tua moglie! Eh, e da dove vieni? Dì, dì, da dove vieni? Una luce, l'ufficio. E com'è che l'ufficio teneva la minigonna? Che è, chi te l'ha dato? Chi me l'ha detto? Buccellino me l'ha detto! Eh, e io che ti ho dato vent'anni della mia vita, vent'anni! Adesso non ti apendi mio, lo sai che faccio? Mi butto, mi ammasso! Per colpa tua, il piaccio mi ammasso! No, 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 Terry, aspetto, no! Terry, non ti butta, non ti butta, aspetta, aspetta! È vero, sono stato con una domanda, va bene, però io al posto tu non mi butteretevi. Perchè? Dopotutto, le corna ti ho fatto, non le hai.